Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo videogameplay con Vimy! Quest'aggi siamo su Fluffy Cry! Un titolo che già solo dalla prima occhiata mi è apparso simpatico. Iniziamo a scoprire di cosa si tratta. Vimy, hai finito? Un momento, Carton! La robotica avanzata non è così semplice. Ah! È praticamente lui che sta parlando! Ho aspettato un'intera settimana. Per costruire me hai impiegato solo un mese. Per installarmi un potenziamento basteranno 30 minuti. 30 minuti? I tuoi processori di calcolo si sono fusi? Rilassati, ci siamo quasi. Ancora qualche vite e... Ecco fatto! Sei pronto! Pronto per cosa? Questo! Ti ho installato un'unità Fluffy! A cosa serve questo Fluffy? Stai per scoprirlo! Ho inserito un programma davvero speciale! Ma certo! Affascinante! Guarda quell'esterino! È uno dei miei nuovi paladini Fluffy! Sono proiezioni tangibili che ho creato convertendo la magia elementale in codice. Possono toccare oggetti, afferrarli e, nel caso di questo piccoletto, sferrare calci ai miei strumenti. Mamma e papà insistono che io intraprenda una carriera magica. Ma sostengo che la magia sia sopravvalutata. L'unica vera magia è la scienza! Ho intenzione di sperire questi paladini Fluffy a svolgere lavoretti in tutta la città. Ecco Carton, ora ti mostro come usarli. Pronto quando lo sei tu? D'accordo Carton, ripassiamo le basi. Caricamento della simulazione di addestramento. Non devi annunciare caricamento della situazione di addestramento perché funzioni, sai? Corretto! Tuttavia è importante divertirsi mentre si lavora. Chi sta? Ah, non ha tutti i torti. Avvio alla battaglia! Questo paladino Fluffy si chiama grassa scalciante. Ah, è una pianta grassa! Ora che è in gioco, usiamolo! A ogni turno il nostro comandante genera una carta speciale che possiamo usare. Quindi peschiamo cinque carte dal mazzo. Ho capito! Una volta schierata un'unità possiamo giocare altre carte. Ma abbiamo una quantità limitata di energia a ogni turno, giusto? Esatto! Qui possiamo vedere il costo in energia di ogni carta. Carte non giocate vengono scartate alla fine del turno. Ah, ci sta il cimitero. E verranno rimescolate nel mazzo quando si esaurisce. Qua? Ma così non mi attacca lui. Le unità possono attaccare in modi diversi. Vedi l'icona della spada sul Capitan Cardo? A ogni turno tutte le unità ottengono un attacco gratuito che non consuma energia. Ah, davvero? L'icona della spada indica che l'unità non ha ancora utilizzato l'attacco gratuito. Fai clic con il tasto sinistro per attivare l'attacco. Aha! Disintegrata! Vittoria! Come vedi la spada è scomparsa. Significa che abbiamo usato l'attacco gratuito di Capitan Cardo. L'icona comparirà a ogni turno. Ricordati di usarla! Ce l'abbiamo fatta, Carton! Ottimo lavoro! Eh, sembra un gioco molto carino. Mamma, papà. Fibi, spero di non interrompere. Io e tua madre vogliamo parlare. Di come mi serva un lavoro. Lo so, me l'avete ripetuto un milione di volte. Fibi, hai 16 anni. Passi troppo tempo l'inchiusa qui ad armeggiare con questi aggeggi. Siamo preoccupati per te, tesoro. Esigo che tu esca e ti goda la vita. Assumiti qualche responsabilità. Cerca un lavoro. Sarebbe davvero un bene per te. Potresti persino farsi degli amici. Ho già degli amici, mamma. Ho Carton. Sì, ma l'hai costruito tu. Senza offesa, cara. Nessun problema. Sentite, ho un piano per non dover cercare qualche noioso lavoraccio. Non riuscirò persino a guadagnare abbastanza da comprare una casa tutta mia. La mia invenzione ci aiuterà a svolgere qualche lavoro. E l'ho completata giusto in tempo per la Coppa Geniale. Se vincessi il primo premio, avrei il denaro che mi serve. La Coppa Geniale è il torneo scientifico che si tiene ogni anno in città, vero? Esatto, e quest'anno ho finalmente l'età giusta per partecipare. Esatto, e quest'anno ho finalmente l'età giusta per partecipare. Una vittoria significherebbe soldi facili. Sai, assumersi in normali responsabilità e aiutare persone che contano su di te non è una cosa negativa. Fibi, siamo davvero orgogliosi del tuo talento con la tecnologia. Ma se il tuo piano non dovesse funzionare, dovrai lavorare alla cucina con tua madre. Almeno finché non trovi qualcosa di più stabile. D'accordo, ma funzionerà. Abbiamo già il primo lavoro che ci aspetta. Concedetemi un paio di giorni. Crediamo in te, tesoro. Banditi, obiettivo principale sconfiggi tutti i nemici. Obiettivo bonus, non perdere nessuna unità. Eh, ok, ci proverò. Proviamoci. L'annuncio di lavoro diceva di raggiungere questa fattoria alla periferia della città. Chissà chi è il nostro cliente. Sembra tutto così professionale. Cliente, lavoro. Guardaci, Fibi. Presto non saremo più un inutile peso per i tuoi genitori. Accidenti, Carton. Dobbiamo affinare le tue buone maniere. Posso aiutarti? Oh, ehi! Ha pubblicato lei l'annuncio di lavoro? Sì, tu devi essere Fibi. Credevo avessi detto che sareste stati in due. Siamo in due. Sono Carton, un braccio artificiale, intelligente, creato da Fibi. Sì, fantastico. D'accordo. Qual è il problema? Secondo l'annuncio, lei è... Terrorizzata da goblin vegetariani. Senti, ragazzina. Cerco di gestire la fattoria senza scocciature. Ma ogni giorno quei goblin dalla foresta raffano il mio raccolto. Potremmo aiutarla a piantare altre carote? Quanto potrà essere difficile? Sembra una faticaccia, Carton. Vi chiedo solo di restare di guardia e tenerli lontani dal mio raccolto. Adoro fare la guardia. Sono un talento naturale. Non ho nemmeno bisogno di sbattere le palpedre. D'accordo, ma mi servirà un anticipo sul pagamento. Ecco qui. Ah? Semi? Intendevo in denaro. Cosa dovrei fare con questi? Se li piantassi, potresti guadagnare molto. Ora occupatevi dell'infestazione di goblin. D'accordo, ma farà meglio a lasciare una lauta mancia quando avremo finito. Carton, ci apposteremo laggiù vicino a... Bersaglio avvistato. Cosa? I goblin, solo laggiù ti ho avvisato della mia grande abilità nel fare la guardia. Guardate, ragazzi. Piccoli tempisti. Cosa state aspettando? Prendeteli. Agli ordini. Per vincere la battaglia sconfiggi tutti i nemici. Ti pare chiaro? E partiamo subito con il Capitano Cardo. Eh... Non lo so, non... In netta maggioranza, no? Osserva. Ah, la prima carta che pescheremo in ogni battaglia sarà sempre il comandante. E certo, abbiamo sempre lui. Ricordi quando ho detto che il comandante è una sorta di caposquadra? Possiamo lasciare che le altre unità subiscano danni. Ma quando i PS del comandante raggiungono lo zero, abbiamo perso. Ah... Teniamo sotto controllo i nemici per proteggere il comandante. Io l'ho messo proprio davanti. Attaccherà il comandante! Ma basterà spostarlo di qui. Io direi che... Lo attacchiamo all'istante. Disintegrato! Yeeey! Fine. Monetà ottiene più uno di attacco. Mettiamo la piantina. Guardate, ti faccio dare un colpo? No. Ecco, fatto! Eliminato! Ehm... Non lo so... Muoio... Un'unità. Terminare il turno! Oh oh! Velo male! Adesso ho proprio scuto! Allora... Utilizziamo l'attacco gratuito per eliminarli. Quindi... Ha più... Ehm... Rieschi di morire, lo sai? Quindi... Levalo la... Levalo un attimo da lì. Quali uno? Ecco. E uno? E dai la spinta? Eliminati! Eliminati! Vittoria! Yeee! Lasciami in pace! E fete di perdenti! E fete di perdenti! Ti stai chiamando, perdenti? Voi, piccole pesti! Dateci un taglio! Quelli sono miei! Ah ah! La signora arrabbiata è qui! Sbrighiamoci! Sbrighiamoci, arrabbiamo il più possibile e diamocela a gambe! Non state lì imparati! Disseguiteli! Ehi! Questo non era contemplato nella descrizione del lavoro! Come no! Non li avete affatto spaventati! Torneranno non appena ve ne sarete andati! Speravo sarebbe stato un compito facile! Vi pago per estirpare la radice del problema! È una battuta sugli ortaggi? Ah ah! Divertente! Andate! Accidenti! D'accordo! Stiamo andando! Per vincere la battaglia! Distruggi il satellite dei Goblin! Ah sì? Ehm... Fai attenzione al generatore di nemici! Quando il conto alla rovescia raggiunge lo zero, arriveranno i rinforzi! Se non vogliamo farci sopraffare, dobbiamo occuparci rapidamente dei nemici presenti! Ehm... Sì! 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 Allora! Più morte! Sì! Sì! Fai due! Sì! Sì! Qu tune... Bu... Sì! Io mi chavo guida! Sì! non ho più carte ok ho ottenuto un bonus su ci sposto ecco fatto attacca ok devo muovere quello e basta sta durando più del dovuto vinci entro 5 turni e ciao devo distruggere il satellite già fai piantina qual è uno? perché lì ce ne sono due questo ha 12 attacca ma non fanno attaccare quello no tantina aia c'è un po' di arrivare fin lì tu l'obiettivo è quello nooo ho sbagliato fatto vittoria è un piacere vederti qui a letto snarlton anche lei ha uno geggio cosa ci fate qui? non vedete che siamo impegnati? esatto in città si dice che stai collaudando la tua nuova invenzione per la coppa geniale ora che abbiamo l'età giusta per partecipare io e Alex vogliamo valutare la concorrenza che batteremo domani improbabile siete solo una coppia di imitatori saremo noi a vincere la coppa geniale Alex non fai altro che copiare le mie invenzioni snarlton ne è la prova mi irrito solo a guardare quel suo monitor scadente per tua informazione Alex mi ha creato con una programmazione molto più avanzata rispetto alle tue specifiche obsolete ah davvero provalo risolvi una divisione lunga Alex perché non te ne vai stiamo cercando di finire un lavoro ah finalmente ti sei unita alla civiltà e hai trovato un lavoro eh vuoi traslocare dalla casa dei tuoi genitori? era ora sai non hai mai accettato l'invito alla festa di inaugurazione della mia nuova villetta in centro levatevi dai piedi assolutamente no intendo farla finita proprio ora il tuo squalido progetto di scienze contro le mie melme da combattimento finalmente dimostrerò chi è la migliore inventrice della città niente più Phoebe è così intelligente Phoebe è un ingegnere di talento Phoebe ha sopracciglia tanto carine scoprirai cosa si prova a essere relegata al secondo posto Phoebe come dovremmo procedere Phoebe? non credo che possiamo evitare lo scontro Carlton dobbiamo sconfiggerla per poter finire il nostro lavoro non c'è modo di convincerla quando è così determinata abbiamo una rivale per vincere la battaglia sconfiggi tutti i nevinci ok mi sembra chiaro contro gli slime raggiungi gli ortaggi prima delle melme ah allora abbiamo scommetto che se riuscissimo a recuperarli prima che le melme li inghiottano otterremo una ricompensa extra ah si? ok allora sono così molte battaglie prevedono obiettivi bonus dovremo provare a completarli tutti ci proviamo? allora devo distruggere quella melma lì? distruggirà buono ma come? non l'ho preso vabbè mettiamo le piantine le piantine ah fine però questo può però questo può mettiamo attento devi prendere le carote poi vai qui distruggi questo questo tu distruggerai questo slime qui peschiamo una carta che mi consente di ehm questo già l'ho usato per la dieta ehm no c'è qui ma è qui tanto vale usarle tutte e così li metto qui pronta a dargli la mazzata appena avrà ucciso la grassa scalciante mi darà un'altra piantina ecco vai tu vai dritto a eliminarmi questo mettiamo anche un pugna manca poco manca poco allora allora e vai quindi ehm ehm c'è un calcio tremendo dai è finito ma cosa mi dici che perderò entrambi ci rimangono loro due contro tutti perché sono un disastro e che finché c'è qualcosa lì che ne genera sempre uno non li finirò mai e siamo all'ottavo turno ecco un'altra pianta aggiungi i tuoi amici non posso usare gli attacchi e ne spunta un altro riuscire a distruggerli tutti quale quale uno poi ovviamente finalmente finalmente vedo le potenzialità del cactus dovrebbero farsi male addirittura semplicemente sfiorandolo come così pochi di attacco eliminato e ora distruggerli e ne arriva un Ah E vai Ora Fai così E attacchi con un bel calcio E tu Lo elimini Come no E basta No Cattus E piantina grassa E siamo appunti a capo Elimina quello Oh Elimina Ma come Oh no E meno male Evviva il veleno Eliminato dal veleno Ancora Guarda di un calcio Tu stessa Oh Perfetto Ora Movi Stiamo arrivando Stiamo arrivando Eh Un altro Prima che ne spunti Ancora un altro Dobbiamo eliminare Questi due Eliminato 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 dal veleno Eliminato dal veleno Eliminato dal veleno Eliminato dal veleno Ma viene Un altro Ce l'ho fatta Ha durato più Non ho visto questa battaglia Come è possibile I tuoi stupidi Mostriciattoli Hanno distrutto Tutte le nostre Memme Arrenditi Alex Sarai sempre Due passi indietro Ricorda le mie parole Fip Avrai vinto Questa battaglia Ma la coppa Geniale sarà mia Andiamo Snarton Dobbiamo mettere A punto Qualche Modifica Prima Della nostra Magnifica Vittoria Mhahahah Hihihi Quindi manca Un solo obiettivo Ehm Ehi Perdetti Mi sorprende Che siate arrivati Fin qui Ma questo È il nostro territorio Che posto è questo Questa È L'area Divertente E non Permetterò Al fettore Di voi Perdenti Di insudiciarla Vi suggerisco Di andarvene Prima Che passiamo Alle maniere Forti Non potrete Impedirci Di rubare Il cibo Terricolo Magico Siamo Incaricati Di formarvi Anche se Significa Conquistare La vostra Aria Divertente Sì La riempiremo Del nostro Fettore D'accordo Avete scelto Le cattive Non dite Che non Vi avevo Avvertito Raggiungi L'obiettivo E occupalo Per due turni La bandierina O sconfiggi Tutti i nemici Semplice E questo Questo cos'è Ok Iniziamo Dunque Possiamo esplorare L'intera mappa Facendo click E trascinando Possiamo spostarci Sulla Mappa Anche con le frecce Proviamo È vero Anche con Le frecce Bene Distruggiamo Il primo nemico Il primo nemico Ok Un'altra Ma se mi Vado qui Ma È finita Niente Per favore Che morirà Carlton Guarda Un'area Di schieramento Inattiva Se vi Posizioniamo Un'unità Potremmo Attivarla E esplotarla Per avanzare Non c'è C'è solo questo Per muoverci Per muoverci no ma perché sto per morire il cactus lo attaccheranno tutti e tre basta 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 ha attaccato tutti e tre insieme ho sbaglio eh mamma mia sono serio e dimono prima che potevamo fare una cosa del genere ecco qua ora possiamo posizionare le unità vicino ok quindi nuova area per posizionare le mie carte l'obiettivo è la bandiera oppure eliminare tutti non perdere nessuna unità è facile a dirsi e soprattutto non devo perdere lui posso mettere qui una pianta il problema è che guarda qui che vita 12 e 10 mi sa tanto che devo va bene dobbiamo rimanere uniti se riesco a eliminare questo sarebbe fantastico come ti fa lì va devo metterlo più lì e due ma dai ai 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 mi spiace pianta grassa ecco il cactus che può attaccare più unità insieme e vai sì ma dai ma perché ogni volta dovrebbe morire no 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 Grazie per la visione! Dobbiamo distruggere lei! Dai che ce la facciamo! Distrutta la giovane goblin! E non è finita! È finita! Devo ricordarmi sempre! Della quantità di morte! Manca poco! Eccomi qui! Per due turni deve rimanere lì! Oppure distrugge il nemico! Qual è la scelta più giusta? Ho appena perso l'unità! Qua è la scelta più giusta! Qua è la scelta più giusta! Qua è la scelta più giusta! Qua è la scelta più giusta più giusta! Qua è la scelta più giusta! Allora è vera! A causa dell'attività più giusta più giusta più giusta! Abbiamo annullato la coppa! Abbiamo annullato la coppa geniale! Ma dobbiamo vincere quel premio! Come faremo a traslocare? Beh, potremmo svolgere un lavoro normale per qualche anno e investire i nostri risparmi! No no no! La gara non può essere annullata! Dobbiamo fare qualcosa! Raggiungiamo immediatamente Cima Cenere e scopriamo cosa sta succedendo al vulcano! Bene! Direi che per questo primo video è tutto! Come prime impressioni questo floppy knight è molto carino! Trama interessante! I disegni sono particolarmente colorati e cartooneschi! E lascio la parola a voi sotto nei commenti per farmi sapere la vostra opinione su floppy knight! E se il video vi è piaciuto vi chiederei per favore di supportarmi lasciando un bel pollice in su Iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto! E condividendo per aiutarmi a crescere! E noi ci rivediamo alla prossima! Sempre con Vimi! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!